Il 13 novembre 2023 si è svolta la prima riunione plenaria del nuovo Consiglio provinciale dopo le elezioni del 22 ottobre, la cosiddetta seduta costitutiva della diciassettesima legislatura. La seduta è stata aperta alle 10 dal più anziano dei 35 consiglieri, Hubert Messner, assistito, come previsto dal regolamento, dai due consiglieri più giovani di due gruppi etnici diversi, per il gruppo linguistico italiano Angelo Gennacaro, per quello tedesco Zeno Oberkofler. Dopo l'appello nominale si è svolto il giuramento di fedeltà alla costituzione del presidente provvisorio e di tutti i consiglieri e le consigliere. Si è quindi passati all'elezione dell'ufficio di presidenza, considerando che per la prima metà della legislatura la carica di presidente spetta ad un consigliere del gruppo linguistico tedesco, per la seconda metà ad uno del gruppo italiano e che nell'ufficio di presidenza deve essere rappresentata l'opposizione, le formazioni politiche rappresentate in consiglio si erano accordate per l'elezione di un ufficio di presidenza provvisorio. Quello definitivo sarà eletto una volta stabilita la maggioranza di governo. All'insegna della continuità a scrutinio segreto è stato eletto presidente Josef Nogler, che ha ricevuto 28 voti su 35. Con 19 voti su 35 Marco Galateo è risultato il vicepresidente italiano. In quanto ai segretari questori il plenum ha eletto Franz Lohr, Hubert Messner e Maria Elisabeth Rieder. La seduta costitutiva è stata dichiarata conclusa alle 11.43.